Un'inchiesta e un accordo. Le autorità peruviane cercano i responsabili delle violenze dell'altro ieri contro la polizia quando una protesta per l'apertura dell'Università di Tayacaja, nel capoluogo regionale Pampas, bloccata dal 2011, è degenerata in scontri e aggressioni agli agenti, quattro dei quali sono anche stati tenuti in ostaggio per una ventina d'ore. Da lì ma ha reagito il ministro dell'Interno. Ho sempre detto e ribadisco, protestare è una cosa, la violenza è un'altra. e quindi la polizia sa che difenderemo sempre i nostri agenti, ancora di più quando vengono colpiti o sono vittime di violenza mentre compiono il loro dovere. L'intervento che i manifestanti auspicavano era però quello di un altro ministro, quello dell'istruzione, perché l'Università nella remota località andina è stata costruita e dal 2011 ne è stata autorizzata per legge l'apertura, ma non è mai stata aperta. Sono passati cinque anni, ci hanno presi in giro per tutto questo tempo e per questo che oggi la popolazione ha deciso quest'azione di forza, spiegava un manifestante. Alcune ore dopo è stato dato il via alla Commissione incaricata dai lavori preliminari all'apertura. È stato raggiunto un accordo tra autorità nazionali e locali in seguito al quale le proteste sono state sospese.